Michel Cruciani, Arzanese sabato, derby delicato perché loro sono ultimi con l'acqua alla gola, voi invece dovete assolutamente continuare questo buon momento. No, ma bisogna assolutamente guardare la classifica, è una partita importante come tutte le domeniche, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, anzi, dobbiamo entrare in campo con lo spirito giusto, con l'atteggiamento giusto perché poi queste sono le partite che magari rischi di fare il passo falso, noi questo non possiamo permettercelo quindi dobbiamo entrare con lo stesso atteggiamento che stiamo avendo le ultime partite. L'Arzanese ti porta bene, gli undici due precedenti li hai battuta quando eri con l'Aprilia, ovviamente punti ad allungare la serie positiva ma al di là delle considerazioni personali è una casertana che ha le carte in regola per avere la meglio sui napoletani. Ma no, io penso allungare la serie positiva con la casertana, a livello personale sinceramente neanche ci può fare, non me lo ricordavo. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e fare la nostra partita, prendere assolutamente i tre punti che per noi sono fondamentali.